venditalia 2024 continua la nostra corsa non posso più dire ormai carellata tra uno stand e l'altro per cercare di documentare tutte le novità presentate qui a venditalia continua sono tantissime le interviste quest'anno perché sono tantissime le novità presentate ci troviamo allo stand di fabian srl e siamo in compagnia di claudia loda la responsabile comunicazione marketing dell'azienda ciao claudia e bentornata ciao fabio buongiorno a te gli amici di vendin tv e benvenuti al nostro stand uno stand che era non lo nascondo sempre pieno ho trovato un momento di vuoto detto buttiamoci dentro facciamo subito l'intervista quali le novità presentate quest'anno per fortuna per fortuna tanta gente che è venuta a trovarci venditalia per noi rappresenta una vetrina importantissima per presentare tutta la nostra gamma di prodotti una gamma sempre più ampia e profonda che ci permette di soddisfare la bisogno di una pausa gustosa in ogni momento della giornata come prima cosa presentiamo una rivisitazione dei nostri della nostra gamma tramezzini che si fa sempre più ampia profonda che spazia dagli 80 grammi quindi in formato rettangolare passando poi per il 110 grammi nostro tramezzino triplo arrivando ai 150 grammi e anche al tramezzino veneziano che abbiamo completamente rivisitato quindi con una farcitura particolarmente abbondante al centro e particolarmente apprezzato nel veneto è una linea che riesce a stare in linea anche con i trend del momento come la nostra linea dedicata appunto all'alto contenuto di proteine quindi tramezzini sia che presentiamo nel formato di 150 grammi che negli 80 grammi con pane ad alto contenuto proteico tonno e tacchino proprio per andare a soddisfare anche questo trend in costante crescita ma non finisce qui assolutamente no come due grandi novità presentate a venditalia sono la merenda fuori frigor una linea di focaccine artigianali lavorate a mano dal nostro forno con la farcitura direttamente nell'impasto e che hanno la possibilità di essere conservate fuori frigor quindi uno snack perfetto ideale per essere trasportata sempre con sé e per avere una pausa gustosa in ogni momento della giornata insomma un po quando la fame chiama insomma voi la fate così molto breve abbiamo solo questo prodottino poi quest'altro poi quest'altro in realtà questi prodotti che sono davvero tante le referenze poi sono state pensate elaborate studiate collaudate nel corso degli ultimi 24 mesi ovvero dalla precedente fiera a oggi e oggi ottenete un risultato in termini operativi eccellenti anche e soprattutto grazie ai nuovi prodotti ai nuovi prodotti si è la merenda fuori frigor che ho citato prima ma anche una linea di prodotti invece freschissimi con una conservazione e una chef live di 15 giorni proprio questa pensata invece con una farcitura di salame e prosciutto cotto accostata a formaggi freschissimi con una crema alla crescenza quindi riusciamo andare a targetizzare tutti i tipi di consumatori ogni tipo di pausa e riuscire a soddisfarla in maniera in maniera gustosa e all'alta qualità sono tutti prodotti sia le focale della merenda fuori frigor che i freschissimi sono prodotti direttamente dalla nostra forneria perché io ci tengo sempre a ribadirlo fabiana un reparto forneria interno che ci permette di avere un grande vantaggio competitivo sia in termini di qualità perché produciamo noi stessi il nostro pane ma anche in termini di sviluppo delle nuove ricette perché ovviamente avendo il forno possiamo partire diciamo dai nostri ingredienti e siamo molto più veloci nello sviluppare ricette sempre nuove e dall'alta qualità inoltre continua la collaborazione con citterio che anche per quest'anno sceglie fabian come rivenditore ufficiale per il canale della distribuzione automatica della linea gli irresistibili snack due prodotti salamini e bastoncini di salame grissini per uno snack proprio perfetto da conservare fuori frigor perfetto da portare sempre con sé in ogni momento della giornata questo rende fabian un fornitore affidabile e unico per la distribuzione automatica perché ci permette di andare a targetizzare ogni fase del bisogno di uno snack gustoso durante la giornata partendo proprio da uno snack fino ad arrivare anche alla pausa pranzo con i nostri piatti pronti ad esempio quindi uno snack per ogni break con fabian mi sta venendo l'acquolina in bocca claudia fermati fermati abbiamo prodotti per tutti i gusti davvero e allora claudia per mettere loro in contatto con voi lo so che sono in pochi perché in tanti sono già vostri clienti ma per i pochissimi che vogliono qualche informazione in più magari proprio sui nuovi prodotti qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale poter scrivere e per poter richiedere maggiori informazioni allora trovate tutti i nostri prodotti innanzitutto sul nostro sito www.fabiansnack.it potete interagire con noi attraverso i nostri canali social le nostre pagine facebook instagram e linkedin oppure scriveteci una mail a info chiocciola fabiansnack.it claudia loda responsabile marketing e comunicazione di fabiansnack srl grazie grazie mille a voi vi aspettiamo www.fabiansnack.it a